La presentazione del rapporto della Banca d'Italia relativo all'economia regionale campana è un momento topico che segnala quello che è il rapporto consolidato fra l'Ateneo Federiciano e le istituzioni finanziarie, in particolare l'autorità di vigilanza, ossia la Banca d'Italia, in questo territorio. La presentazione è stata l'occasione per riflettere su una serie di elementi, in parte noti ma in parte non sufficientemente forse evidenziati rispetto al grande pubblico, del rapporto che esiste fra territorio, infrastrutture, sviluppo e formazione. Credo che questo sia uno degli aspetti più interessanti che segnalano appunto questo consolidato legame fra l'Ateneo e la Banca d'Italia, ma anche con il sistema bancario territoriale. Nello stesso solco si colloca la presenza della società McKinsey, presentato in esclusiva per l'Ateneo Federiciano, un rapporto elaborato da McKinsey sulle banche cosiddette locali significant. L'insieme di questi eventi rappresentano sicuramente un primo set di incontri e anche di riflessioni sulle quali è ragionevole e auspicabile che si possa immaginare una più consolidata compartecipazione del processo formativo federiciano a quelle che sono le esigenze dell'autorità di vigilanza da una parte ed eventualmente delle società di consulenza del mercato bancario e finanziario da un'altra parte.